e un saluto a tutti da simonetta buona domenica buona giornata festiva a tutti oggi voglio insegnarvi un rituale molto interessante molto semplice che ha due funzioni una funzione purificatoria e una funzione attrattiva a livello d'amore quindi è bene che lo imparate perché vi potrà dare dei grossi risultati nella sua apparente semplicità questi rituali antichissimi funzionano molto molto bene perciò se tra voi è la persona che vi interessa per qualsiasi motivo oppure la persona con la quale state ci sono dei problemi fate questo rituale è il rituale del sale e dello zucchero sì perché usiamo sia del sale o grosso fine ne serve poco sia lo zucchero bianco quello che abbiamo tutti in casa e poi usiamo come vettore energetico un bicchiere di acqua di acqua naturale anche del rubinetto va benissimo e per dare un carattere ovviamente magico usiamo un testimone nella forma di un pezzettino non grandissimo di carta e una bic una penna preferibilmente blu se no usate un lapis che è meglio nel senso del colore nero quindi o usate il blu o usate un lapis normale per scrivere allora abbiamo detto che questo rituale toglie sia il negativo che è nella persona che ci interessa riporta la positività e la dolcezza come facciamo molto semplice andiamo a scrivere il nome il cognome se l'avete la data di nascita della persona io scrivo claudia torre e se avete la data mettete la data mettiamo 20 maggio 1981 ecco così non preoccupatevi se vedete al contrario perché è la telecamera che gira l'immagine quindi o scrivete il nome il cognome se non avete la data di nascita se avete più dati quindi anche la data di nascita mettete pure quella e il fogliettino non deve essere grandissimissimo deve essere un fogliettino piuttosto piccolino allora come facciamo andiamo a prendere il nostro bicchiere d'acqua ci concentriamo sulla persona con molta positività non abbiate mai pensieri negativi o rabbiosi anche se la persona magari vi sta trattando male o la persona è fredda o ci sono incompatibilità o la persona non si fa sentire abbiate sempre una visione contraria cioè una visione del tutto rovesciata vedete la persona completamente cambiata nei vostri confronti in senso positivo prendiamo il bicchiere d'acqua quindi con le mani lo magnetizziamo pensando alla persona qualche istante vedendo immagini belle positive di amore di scherzo di passione di simpatia di fine del problema eccetera eccetera e andiamo a mettere nell'acqua tre pizzichini di sale uno due e tre che sia sale grosso sale fine non ha importanza poi aggiungete nel bicchiere così senza piegarlo il foglietto quindi lo mettiamo dentro e andiamo con un cucchiaino a mescolare dicendo con questo sale io claudia oppure il nome della persona ti purifico da ogni negatività tolgo da te ogni negatività che ti possa allontanare da me con questo sale tolgo da te ogni cosa negativa ogni pensiero negativo ogni sentimento negativo con questo sale tu claudia torre oppure il nome che avete io ti purifico ti purifico ti purifico queste sono più o meno le parole che dovete dire perché il sale ci serve per togliere il negativo che c'è nel rapporto fatto questo prendete lo zucchero mettete sette cucchiaini di zucchero 1 2 3 4 5 6 e 7 deve essere un'acqua ben addolcita naturalmente mettiamo questo zucchero e mescoliamo perché lo zucchero è il grande attrattivo il grande addolcente promuove ovviamente tantissime cose in magia promuove la dolcezza l'amore attira la persona e dite con questo zucchero claudia oppure mario quello che è io ti attrago a me io ti porto da me ti riporto da me dolce ma sueto innamorato innamorata appassiona appassionato appassionata con questo zucchero io ti porto dolce nel palmo della mia mano verrai da me tornerai da me sentirai mancanza di me grazie a questo zucchero queste sono più o meno le parole che dovete dire mescolando un po' il contenuto del bicchiere a questo punto vi trovate questo bicchiere incantato che dovete andare a collocare in un luogo alto di casa vostra quindi in alto di un armadio in alto di una mensola perché deve stare più alto della vostra testa quindi mettetelo in un luogo alto dove nessuno lo possa ovviamente vedere o curiosare e lasciatelo lì a lavorare quanto tempo simonetta vi rispondo subito il tempo che ci vuole quindi che ci voglia un giorno due tre una settimana non ha alcuna importanza lasciate questo lavoro magico a a fare il suo dovere lasciate le energie dell'universo lasciate gli spiriti lavorare per voi non vi ossessionate sul risultato e come vi ho detto ponete il bicchiere sopra un armadio sopra una mensola più alta della vostra testa il rituale concludo si fa quando vi sentite quindi non importano le lunazioni non importano i giorni non importano gli orari potete farlo quando volete quando sentite quella spinta dentro di voi che vi dice ok vai a lavorare fai il rituale quando vi sentite calmi rilassati anche se a volte è un po difficile dovete trovare questa forza in voi e visualizzare le situazioni già risolte con tanta positività perché tutto ciò che fate è da una preghiera da una candela da un bicchiere da qualsiasi cosa entra nell'universo entra nei materiali quindi è bene che voi lavorate facendo entrare la vostra energia d'amore la vostra energia positiva e lasciando poi il resto alle forze cosmiche che vi porteranno il risultato che tanto attendete per il momento vi mando un grosso bacio se volete iscrivetevi al canale compartite il video se vi va mi fa molto piacere da simonetta un saluto ci vediamo nel prossimo video grazie